Il presidente della regione Crocetta insieme agli assessori al bilancio dell'agricoltura e dell'ambiente Bianchi, Cartabellotta e Lobello dopo l'annuncio delle proteste da parte delle organizzazioni sindacali ha convocato d'urgenza un incontro sulla questione forestali per questa sera presso la presidenza della regione. Alla luce della convocazione le segreterie regionali di Fai Cisle, Flai CGL e Willa Willa hanno quindi sospeso lo sciopero e le manifestazioni previste per domani in attesa di valutare l'esito dell'incontro. Sindacati e governo regionale oltre alle segreterie regionali di Fai Cisle, Flai CGL e Willa Willa nel corso dell'incontro ribadiranno le necessità di un cambio radicale della politica di governo regionale nel comparto forestale siciliano che coniughi prevenzione, cura del territorio e ruolo centrale dei lavoratori forestali. In questo senso secondo i sindacati vanno definitivamente previsti completamente delle giornate per l'anno 2013 previste per legge e verificate ulteriori possibilità di reperire risorse per l'applicazione dell'accordo sindacale del 14 maggio del 2009 nel quale si introduce una nuova strategia di difesa del territorio. La mobilitazione in particolare riguarda la sospensione lavoratori del corpo forestale antincendio in un periodo dell'anno che la legge prevede come stagione antincendio, la sospensione da circa due mesi dei lavoratori dell'azienda Foreste Temaniali della fascia di 78 giornate annuali di lavoro, l'assenza di certezze sul completamento delle giornate previste per legge per il 2013 per il lavoratore dell'azienda nelle fasce 151 e 101 giornate e poi ancora il mancato pagamento degli stipendi dei mesi di luglio e agosto. Reste inteso, spiegano i segretari provinciali Cipriano, Mastroeni e Orlando, che ieri avevano dato notizia dello sciopera della protesta collegata che in assenza di risposte chiare e scritte le iniziative di lotta riprenderanno immediatamente. Grazie a tutti.